E sempre per la Casa della Salute, Santo Sesto, per il movimento politico-culturale Chiaravalle da vivere, analizza la situazione. Tarde non furono mai grazie divine, non perché il manifesto del PD sia una grazia divina, ma perché nel tempo non manifesta nessun cambiamento. Infatti, ieri come oggi, vede la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave nei suoi. Quindi, ragionando sulla sanità chiaravallese, con obiettività ed onestà intellettuale, dobbiamo dire pane al pane e al vino al vino, ovvero evidenziare che il manifesto del PD sia un tentativo di sembrare più tosso che essere interessati al funzionamento dell'ospedale. Le dichiarazioni del movimento politico-culturale Chiaravalle da vivere sulla Casa della Salute non intendono spezzare una lanza in favore del sindaco Donato, ma quella di fare chiarezza sulla situazione sia di ieri che di oggi. In primo luogo, bisogna sottolineare che il PD di Chiaravalle non può accampare meriti sulla sanità chiaravallese e sulla Casa della Salute avendo una pesantissima responsabilità sul sistema sanitario locale. Infatti, nel 1998, il sindaco dell'epoca, PCI, oggi PD, ha rifiutato 20 miliardi delle vecchie lire per la riconversione del nostro ospedale in una struttura riabilitativa, mentre dal 2005 al 2010 lo stesso personaggio non ha battuto ciglio quando un assessore regionale del suo partito ha sottratto 15 milioni e 600 mila euro, fondi INAIL finalizzati sempre per la riconversione dell'ospedale di Chiaravalle in una struttura riabilitativa. Oggi il PD di Chiaravalle esce con un manifesto additando dei colpevoli con il preciso intento di chiamarsi fuori, ma si dimentica dei fatti e dei misfatti compiuti. Se Donato va criticato per le sue inadempienze, coloro i quali vorrebbero chiamarsi fuori non hanno nessun merito sulla sanità locale, ma solo molti demeriti. Il movimento politico-culturale Chiaravalle da vivere è critico sul manifesto del PD, come lo è sui lavori della Casa della Salute. Il motivo affonda le radici in una politica di apparenza e non di sostanza per quanto riguarda il PD, mentre per il sindaco Donato, per aver approvato un progetto senza nessun controllo, dopo aver concordato che la Casa della Salute dovesse essere realizzata nel terreno, dietro la sezione staccata del Tribunale, senza demolire scale, muri ed ospedale, evitando così di creare il pericolo di non poter realizzare la nuova struttura ed evitando inoltre sicuri danni erariali per le casse comunali. I chiaravallesi non debbono credere alle lacrime dei vari coccodrilli perché sono lacrime ingannevoli, mentre i fatti dicono che si è voluto svestire un santo per vestirne un altro. Chi ha orecchi di intendere, intenda.